Ha il suo bel da fare con Agostini, Uroda e niente a scavalcarlo, De Birra tra l'altro è anche pilota molto veloce, pilota sudafricano che è campione mondiale, ma che purtroppo è per lui, per problemi di budget, gli unici test che può fare. I primi giri, è eccezionale la tabella di marcia che stanno avendo i primi, ha sfruttato molto bene le nuove dei primi giri, è eccezionale. Quinta posizione, il senato De Birra che è ormai arrivato in coda.